Un altro filmone praticamente sconosciuto al pubblico o veramente poco conosciuto che è veramente bello, ci sono un sacco di film poco conosciuti che regalano delle emozioni, ci sono dei film che regalano emozioni, uno è questo, non sono velocissimi, non sono gli Avengers, non sono super film, eppure, cazzo, sono da vedere.